a radio millennium l'esperto risponde siamo pronti a tornare ancora una volta nella mattina di millennium a bucinasco ci facciamo un giro a bucinasco andiamo guardi vi do vi do un indirizzo via dominzoni 1 cosa c'è in via dominzoni 1 c'è fumi stess che è il negozio di giuseppe che salutiamo giuseppe ben ritrovato buongiorno ciao ciao a tutti entriamo con lui nel mondo dello svapare tra l'altro una premessa voglio fare una premessa ti do una mano giuseppe perché mi sono anch'io informato ho cercato notizie e curiosità sul sul mondo appunto di dei fumatori quelli veri quelli incalliti purtroppo beh sappiate che praticamente più del 90 per cento ma forse anche i percentuali ancora più alte di chi inizia a fumare lo fa solo per emulare qualcuno e lo si fa da giovani da ragazzini perché il compagno di scuola le medie sta fumando e allora fumi anche tu quindi nessuno lo fa perché c'è bisogno di fumare attenzione quindi è proprio una cosa psicologica allora diciamo che tu dai una ottima alternativa sì sicuramente è un'ottima alternativa in quanto si sostituisce completamente questo tipo di mentalità che è legata alla psicologia poi è vero che c'è anche un ancoraggio proprio di gestualità nel senso che ci sono degli orari c'è bene o male nel senso in cui dopo il caffè uno vuole fumare la sigaretta eccetera eccetera e quindi lo sbappatore personale viene a sostituire questo tipo di mentalità però è ovviamente con 95 per cento di problemi in meno nel senso quindi non è così diciamo pericolosa poi nel tempo con il tempo viene a togliersi anche quella che è la parte di nicotina che inizialmente ci mette non tanto perché uno la vuole ma perché serve a compensare quello che uno assume giornalmente in base a quante cigarette uno fuma poi uno riesce a capire quante quanta nicotina mettere che non è canterogeno ma è farmaceutico quindi non crea danni neanche collaterali quindi poi col tempo piano piano scende va a scemare la nicotina fino ad arrivare a zero facendolo diventare un passatempo un diversivo e un piacere quindi andate a trovare il nostro amico giuseppe in via dominzoni perché avrà tante cose da proporvi via dominzoni 1 a bucci nasco e quando siete lì intanto vi fate spiegare bene le cose e poi vi fate anche un selfie ce lo mandate così meno lo mettiamo anche sulla pagina facebook sia sulla sua pagina facebook che è interessante datela vedere fumi stessa e sia naturalmente su quella di millennium caro giuseppe io ti ringrazio per queste chiacchierate ma sicuramente ne farei altrettante con tutti gli amici che ti verranno a trovare grazie mille e buona giornata grazie a voi grazie mille e buona giornata grazie a voi grazie mille e buona giornata grazie a voi